buongiorno benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 17 giugno, me la prendo un po' più con calma ma in questi giorni sono le 11 e tre quarti perché sono in vacanza, domani ritorno a Milano a lavorare però insomma oggi sono in vacanza e quindi me ne sono un po' presa con calma e non pensate che sia in questo spirito vacanziero che vi dico che l'unica cosa che oggi mi ha divertito poi parleremo di Salvini, parleremo di tutte le solite cose che riguardano lo stadio, Ferrara ma la cosa che mi ha divertito moltissimo oggi è l'intervista a Sonia Bonolis la moglie di Bonolis ha fatto due pagine, una pagina e mezzo oggi, intervista dal quotidiano nazionale che talvolta trascura e sbaglio, Piero D'Antoni lo ha intervistato alla moglie di Bonolis in cui parla della sua vita, insomma ma non è un pezzo come possiamo dire rosa di pettegolezzo ma è una storia fantastica di una donna vicina a un uomo che ha un grande successo nel suo mestiere che è Bonolis e che dice ma vedete è come il caso mio, io non sono una bella donna e eppure ho conquistato un uomo che avrebbe potuto volere tutte le donne belle di questo mondo cioè Bonolis, non certo perché bello immagino ma perché come spesso avviene in televisione un potentone quindi lei interpreta quello che potrebbe essere il suo successo con le solite velinazze che girano nel nostro mondo è fantastica l'intervista perché poi racconta la questione del suo aereo dice io non riesco a capire perché l'Italia sia un paese così di ipocriti dice se mio figlio sta in panchina è perché sono più bravi quelli che giocano a calcio e stanno in quel momento giocando a pallone non penso che sia colpa dell'arbitro, colpa della sfortuna, colpa dell'allenatore e non riesco a capire perché mi dovrei vergognare del fatto che io giro in aereo e invece dovrei postare delle foto, non so, mentre stiro o faccio gli spaghetti cosa che non so fare io la trovo un'intervista divertente, autoironica e soprattutto con un taglio, come posso dire, di sfanculamento ai luoghi comuni di questo paese che è straordinario perché il tema invece di ipocrisia collettiva la trovo su uno dei temi che questi giorni non affrontano e secondo me non riesco a capire come possa non farlo solo le 24 ore in prima pagina perché è il tema dell'economia in questo paese, cioè Fudora ne ho parlato già ieri, la questione è molto semplice c'è il famoso decreto dignità quando fanno i decreti dignità, già a me mi viene il sangue al cervello dico no, decreto dignità vaffanculo cioè che vuol dire? che per decreto si può restituire la dignità a chi non ce l'ha? dai non perdiamoci in giro è un decreto che vuol dire semplicemente un programma politico che non verrà attuato e cioè di rendere dipendenti i 30.000, 10.000, 20.000 collaboratori anche se a tempo determinato immagino dei rider, Fudora, Delivero, quelli che voi vedete nelle città il punto sostanziale è questo, cioè che lo Stato decide per noi per qualcuno di loro che si trovano male ovviamente lo Stato decide che non si può che essere dipendenti che l'alcoritmo non funziona, che gli orari sono sbagliati insomma io trovo è la moderna declinazione del socialismo tant'è che oggi Lottieri l'affronta in questi termini sul giornale ma la cosa più straordinaria è che quando l'amministratore dell'agrato di Fudora che ha due palle così secondo me dice va bene, perfetto, fate il decreto dignità noi smettiamo di lavorare in Italia che cosa risponde Di Maio? piagnucolando, non accetto ricatti no, il ricatto lo stai facendo tu tu stai facendo il ricatto al mercato dicendo che se non si adegua a quello che hai deciso tu parlando con tre rider a casa tua beh se non decide se il mercato non fa quello che vuoi tu non si può fare quindi chi è che fa il ricatto? Di Maio? o lo sta facendo Fudora che dice io ho queste condizioni, non posso lavorare in Italia posso che lavora a quelle condizioni in tutto il mondo ma in Italia no, la dignità e che dignità hanno questi ragazzi che ovviamente devono fare questo lavoro soltanto part time, come l'abbiamo fatto tutti noi se poi quei 50 euro, 60 euro al giorno non ce l'avranno più che dignità hanno? vi arrivano a chiedere i genitori, ai nonni, ai pensionati qual è l'alternativa? l'alternativa è quello che è successo con i voucher oggi lo scrive bene Paolo Baroni sulla prima pagina della stampa cosa è successo abolendo i voucher? perché si diceva c'è tutto il nero sui voucher si prendono degli casi estremi e si rendono fisiologici le patologie diventano fisiologiche siamo tutti malati e quindi tutti dobbiamo vaccinarci tutti dobbiamo fare la chemioterapia altro che vaccino, il vaccino è sacrosanto cioè dobbiamo tutti fare la chemioterapia perché siamo tutti malati perché ci sono due non siamo tutti malati e quindi abbiamo abolito i voucher perché c'era l'evasione contributiva perché c'erano dei casi non civil ma sono là sono nella mitica Sardegna purtroppo domani è finita e quindi che cosa succede? abbiamo abolito i voucher quanti posti di lavoro abbiamo perso? 500.000 500.000 mini contratti saranno schifosi saranno pochi dignitosi ma cosa raccontiamo? secondo voi quelli li fanno in nero oggi o non li fanno per niente queste sono le due alternative o non lavorano più quindi perdono anche quei 4 soldi che guadagnavano allora Fudora non rispetto ai diritti di lettori non è socialismo a evitare lo sfruttamento Alex nessuno ti obbliga a lavorare per Fudora non è sfruttamento non è sfruttamento come vi viene in mente una roba di questo tipo tu pensi di essere sfruttato? non ci lavori per Fudora non te l'ha obbligato il medico di lavorare con Fudora di stare in bicicletta sotto il sole o sotto la neve a consegnare per 5 euro lordi a consegna il cibo non te l'ha ordinato nessuno chiaro? non te l'ha ordinato nessuno lo sfruttamento è quando tu sei sfruttato quando tu sei un dipendente che non ti permettono di lavorare non ti permettono di riposarti non ti riposare quello può essere uno sfruttamento questo non è sfruttamento ma che cavolo stai dicendo? vai a lavorare in un call center guarda vai a lavorare ad alma viva con tutto perfetto con i contratti tutto perfetto no? tutto perfetto nel call center e lì sei tranquillo il fatto che legge forse il nostro lettore dice la guerra dei nuovi schiavi no gli schiavi siamo noi che paghiamo il 60% delle imposte per fare spesa pubblica io sono uno schiavo perché per il 60% del mio lavoro lo dedico per pagare una spesa pubblica e produttiva questa è la differenza ma non è che mi metto a piagnucolare combatto in tutti i modi perché queste imposte possano diminuire non per me ma per tutti altro tema fantastico di oggi lo capisci che non c'è lavoro? sì Giuseppina lo capisco che non c'è lavoro io mi sono fatto un culo così per trovarlo va bene tu? che cosa stai facendo Giuseppina? chi aspetti Giuseppina? il tuo concorsetto pubblico per trovare lavoro? eh? tu quello ti aspetti poi per farti una bella 104 quello ti aspetti non c'è lavoro non c'è mai stato lavoro in questo paese il problema è che ci siamo fatti un mazzo ci siamo trovati io ti spingerei a vedere i ragazzi che ho visto a Napoli due giorni fa che sono trovati da soli il lavoro senza piagnucolare con il tuo fudora e i decreti di dignità purtroppo ci che lo fa è regolarizzando lo sfruttamento non è regolarizzazione dello sfruttamento non si sta regolarizzando lo sfruttamento ma avete lavorato da ragazzini voi? avete invece di studiare all'università? avete mai fatto un lavoretto? vabbè lasciamo perdere andiamo avanti sulla questione di Salvini qui ci sono certo che bisogna inventarsi il lavoro hai ragione Fulvia purtroppo questo è cambiato completamente il paradigma prima c'erano le grandi aziende che ti assumevano oggi ci bisogna inventarlo insomma oggi l'altro tema è quello dei migranti e sui migranti ci sono due articoli che sembrano due titoli di prima pagina che sembrano completamente diversi il Corriere della Sera dice i migranti la nuova rotta cioè sono diminuiti l'82% di sbarchi in Italia e sono raddoppiati in Spagna nel momento in cui il Corriere fa questo titolo Repubblica invece Bluff di Salvini ferma le ONG ma non gli arrivi mettetevi d'accordo o è un Bluff oppure ovviamente sono due giornali diversi è difficile che si possano mettere d'accordo il pezzo migliore lo fa Gian Michalessin e qual è il pezzo migliore di Gian Michalessin? che la dice molto semplice gli spagnoli che fanno la morale i balli il brava gente come scrive oggi qualcuno mi sembra sulla prima pagina del Corriere della Sera brava gente gli spagnoli ci sono diventati brava gente e noi cattivi noi siamo diventati la merda del mondo perché non abbiamo accolto questa ONG e non dobbiamo correttamente accoglierle perché le ONG non sono lo Stato italiano non decidono la politica estera italiana va bene? fino a prova contraria ma comunque sia Michalessin ne fa vedere questi numeri semplicissimi noi saremo cattiva gente mentre gli spagnoli brava gente secondo i commenti che leggiamo sui giornali cosa è successo nel 2016? quante persone immigrate hanno accolto gli spagnoli? 14 mila gli italiani? 181 mila capito? brava gente 14 mila gli spagnoli 181 mila nel 2017 grazie a me si sono diminuiti gli sbarchi quindi a 181 mila siamo arrivati a 119 mila sbarchi quando noi accettavamo 119 mila sbarchi gli spagnoli quanti li hanno accettati? 21 mila io non è che ce l'ho con gli spagnoli io ce l'ho contro questa retorica di merda per cui loro sarebbero brava gente noi cattiva gente perché abbiamo detto alle ONG ragazzi scusate basta noi accogliamo magari anche gli immigrati perché li salviamo in mare ma le ONG facessero il cazzo di mestiere loro con le loro bandiere che non sono mai italiane sulle lacche e acque territoriali magari libiche e non se le portano in Italia punto e fa bene perché è il segnale minimo indispensabile che lo possiamo dare è un mondo dice bene Silvio Silvia di ipocriti e c'è un bel filo rosso tra il punk che dice che dà del fascista a Salvini Salvini che fa valere giustamente le ragioni dell'Italia e quei cretini che si immezzano stanno al governo con Salvini che il decreto di dignità possa salvare e creare posti di lavoro li distruggerà posti di lavoro distruggerà fu da ora ma tanto troveranno un accordo perché si renderanno conto che cosa vuol dire per 30.000 persone non avere neanche quel tipo di lavoro sullo stadio oggi voi sapete come la penso io la trovo una mezza fuffa questa mi sembra una grande montatura nel senso che ci sarà qualche atteggiamento diciamo irrituale da parte di un imprenditore ci sarà questo lanzalone che era come tutti gli avvocati un po' con le mani in pasta insomma cose che ci sono sempre state che non mi scandalizzano oltremodo non mi scandalizzano anche se riguarda il Movimento 5 Stelle oggi Ferrara dice sbagliate voi gentiluomini dice così di garantisti in questo caso dovete urlare con me e come faceva Bracardi ladri in galera in galera quindi sostanzialmente dice Ferrara oggi sul foglio dovete prendervela contro questi perché aveva un atteggiamento diciamo iper giustizialista oggi li dovete volere tutti in galera io non concordo con Ferrara perché penso che il garantismo sia stato sempre un po' tirato da una parte e dall'altra quando c'era Berlusconi non si era più garantisti quando c'era la sinistra si era più garantisti quando c'è ragazzi se voi andate a leggere queste carte Ielo fu lo stesso caro Giuliano Ferrara come citi tu giustamente nel foglio che si inventò mafia capitale e per la quale Raggi diventò sindaco di Roma poi si capì che erano quattro straccioni e di mafioso non avevano nulla anzi la mafia è ostia come giustamente noti tu non a Roma e a Roma erano quattro affaristi di cooperative che pagavano le stecche e che facevano un po' di ricatti non erano mafiosi allora siccome è lo stesso PM che ha preso quella toppa ma perché dobbiamo continuare sempre cambiando partito a perpetrare il potere di questi PM che troveranno sempre il giornale alleato in funzione del politico che viene attaccato al contrario dovremmo dire una volta per tutto basta con queste indagini spiattellate e scandalistiche per le quali sembra un sistema quello della mafiosità a Roma o delle corruzioni di Lanzalone e Compari detto questo non scuso minimamente le ipocrisie di Casaleggio dei grillini dei grillozzi sono d'accordo assolutamente col Foglio e con Ferrara però insomma il governo Conte secondo Ilvo Diamanti ha un consenso nel paese del 57% altissimo nessuno dice Diamanti ebbe un consenso così alto tranne negli ultimi dieci anni Renzi nel 2014 non vorrei che gli portasse male al governo gialloverde perché così come nel 2014 Renzi ha avuto quel consenso poi lo ha perso in maniera drammatica oggi se citi Renzi gli vorrebbero sparare tutti quanti non riesco a capire come sia possibile passare dal 60% del consenso italiano al 5% 10% oggi è il più odiato di tutti Renzi più di Berlusconi tant'è che quando ieri Renzi effettivamente ci mette del suo dice che Salvini fa il bullo beh insomma mi viene un po' da ridere che il bullo dà del bullo all'asino il cornuto come cavolo si dice insomma che Renzi dica che Salvini sia bullo per la questione degli immigrati è piuttosto ridicola due interviste fa Salvini oggi al messaggero e al giornale insomma ve le potete anche risparmiare direi che per oggi è tutto se vi piace questo Zuppa Ferrara va troppo a Capalbio no ma Ferrara è una persona molto intelligente c'è una casa nella campagna lì toscana della Maremma che devo dire la verità c'è molto poco a che vedere con Capalbio direi che per oggi è tutto ci sentiamo ovviamente con la Zuppa di domani se il decreto di dignità lo faceva Salvini era pronto a spiegarci quanto era bello adesso sono diventato salvidiano il mondo è fatto da cretini questo è fuori di dubbio ma quelli che seguono la Zuppa e convinti che io abbia sempre un'idea preconcetta prima era Berlusconi poi era Renzi che mi ha cacciato la Rai adesso è Salvini poi se faccio una critica a questo governo dicono tu fai le critiche a questo governo perché ti pagherà Berlusconi non gli va mai bene niente chi mi conosce e chi mi segue a Londra la Zuppa diventerà inglese sarà fantastica la Zuppa inglese e vi do un abbraccio e vi dico di condividere questa Zuppa se vi piace nicolaporro.it è il mio sito per tutte le informazioni durante la giornata ciao ciao